eccoci qua, buongiorno allora io sono all'opera per lavare l'acquario come ne avevo accennato e quindi ora procediamo la mia amica mi ha consigliato di mettere una goccia di candeggina ma proprio una goccia e poi di lavarlo con l'acqua e poi lasciarlo asciugare da solo in modo che così poi si può fare la maturazione e tutto il resto procediamo ok, come avete visto ho lavato tutti i vari pezzi e ora semplicemente lo dobbiamo lasciare asciugare per poi metterlo in maturazione con l'acqua pulita eccomi, oggi video un po' diverso vi ho portato in cucina con me adesso sto preparando le fettine di tacchino da fare impanate per stasera e magari possiamo fare due chiacchie e cosa vi posso raccontare qua non è che ho molte cose da raccontare oggi come avete visto ho lavato l'acquario adesso aspetterò che si asciuga come si deve e poi e poi andrò a montare tutti i filtri tutte le cose così poi riduciamo come vi ho accennato già ieri riduciamo un pochettino di acquari così invece di averne due piccoli più quello delle tartarughe ne avremo uno delle tartarughe e uno dei pesci al minimo farò casino perché l'olio sarà bollente no, il giusto bene faccio prima fare con le maniche con la forchetta volevo cercare di insozzarmi il meno possibile se poi magari Luca non fa questi suoi acuti si sta anche meglio noi qua siamo in una settimana di punizione per Luca quindi gioca e non guarda i cartoni siamo già al giorno vedi venerdì sabato terzo giorno quindi direi che sta andando bene io non sto cedendo se si guarda si guarda qualcosa tutti insieme le puntate non esistono di cartoni come vorrebbe lui e quindi mi sta andando bene questa punizione che ha scritto sul muro con un rossetto quindi è giusto che venga punito non tanto per il rossetto quanto per il gesto che non si deve fare e ovviamente abbiamo tolto anche la Wii visto che è un periodo che voleva giocarci sempre abbiamo tolto cartoni e Wii ce la stiamo facendo e sta giocando come un qualsiasi bambino normale non è morto non è svenuto per la lontananza dei cartoni quindi direi che va bene 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 cosa vorrei raccontarvi vabbè dopo penso che sposterò qualcosa per mettere l'acquario già in posizione e che sposterò un mobiletto ma adesso vedo perché ora devo preparare da cena che è già tardi e quindi vedo se riuscirò a farlo ancora oppure se a questo punto lo farò domani mattina quando mi alzo perché dipende sempre da che ora finiamo di mangiare noi possiamo spostare i mobili così tranquilli e quindi si vedrà quando si farà l'importante è che adesso l'abbiamo già lavate così almeno ci siamo già tolti il pensiero e basta comunque per cena avremo queste fettine di cacchino impanate con le verdurine con le quali oggi ho fatto il brodo per fare i raviolini e stasera quindi mangiamo le verdure bollite che ci sono finotti carotte patate e una cipolla abbiamo appunto fatto il brodo le ho scolate nel brodo e le ho tenute da mangiare stasera e basta stop ci vediamo poi domani con un altro video sicuramente perché mi sa che stasera non ce la farò più a mettere a posto l'acquario quindi domani vi farò vedere comunque ciao a tutti al prossimo video